Ben tornati a tutti quanti in un nuovo video Oggi siamo su una mappa senza un po' di illuminazione Vabbè, siamo sulle Bad Wars Allora, eh sì, vabbè, romani Vabbè, siamo appena su un po' di lino Tutta l'ana, vai, tutta Mettiamolo attorno Allora Parto subito col dirvi che Anzi, no, non col dirvi, col ringraziarvi tantissimo Grazie, grazie, grazie Siamo arrivati a 25, 24, però In realtà ne manca solo uno 24 iscritti, grazie Prima di tutto perché da... Questa è la risola degli amanti? Non è questa Ah, ho sbagliato di solo Ah, prima di tutto grazie per... Perché siamo arrivati a 24 iscritti E tra poco Tra poco, eh... Uscirà lo speciale dei... Speciale 25 iscritti Parte proprio il can da un'ora Proprio ora Per lo speciale Che farò con i miei amici Che sono anche loro youtuber Vi lascerò il loro canale in descrizione Seguitevi pure su Instagram Se volete vedere la mia faccia Però non vi conviene Seguitevi su Instagram Lascerò quello e il link in descrizione Perché sono uno bravo Youtuber Vabbè Noi non spariamo la grossa Video saranno su Vorresti morire? Potresti? Eh, eh, eh Hai fatto la cazzata? Sei venuto a sfidarmi? Sei venuto a sfidarmi? Sei venuto a sfidarmi? Ma ti risparmio Ti risparmio Per pietà Per pietà Molto figo Ma mi spacco il letto Vedete qualcosa Se faccio dei tuoi blocchi Mi mando via Chiedimi pietà La prossima volta Quando voglio Mi spacco il letto Qua si ricura Che io stia dentro la base Con me Oddio No, ma mi ha laggato Tantissimo Vabbè Vabbè Fa niente Allora Prima di tutto Il prossimo episodio Il prossimo video Che uscirà sul mio canale Sarà Sarà assolutamente Di Minecraftica Allora Andiamo qua Ci compriamo Qualche mila d'oro Eh, guardate Questa qua Ci compriamo Piccone Questa La fattura Mi cade in vuoto Mangiamo questi qua Mangiamo In realtà Non l'ho voluto Per rompere Io il letto Se no Io domani Me lo distruggevo Oh, c'è una spagina Mia Come vedete Pure mille Shatnes Eh Ma io ce l'ho In ferro Questo poi Avevo i premi Inlessati No Vabbè Ci è riuscito Ci è riuscito Veramente Vabbè 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 Sì Vabbè Vabbè Sì Vabbè Vabbè Diamo Ancet Sì E' per te il brusco, non mi laggiare. E' un bel clapp. E' un bel clapp. E' un bel clapp. Ci mettiamo pure un po' di legno. Da rompere a mano libera, senza accetta. Cosa vengono con l'accetta? E' una bellezza. E' un bel clapp. 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 Grazie. E' un bel clapp. A te l'abbiamo variato. Come un clapp. sharpness guardiamo il letto questo qua lo vedo che è già una maglia di amante stanno qua dentro 4 4 4 6 8 9 9 10 12 12 13 14 15 15 16 19 20 21 21 22 22 23 24 24 24 la subito non andare proprio a stacchetto con il knockback per noi c'è anche la lana uno stack di lana abbassa e avanza è normale che non avevo chissà cosa con me c'è solo uno stack di ferro oh 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 ne ho 14 Dio tantissimi no vabbè 7 7 e 4 vabbè se ne succede tantissimi potrei passare pure per chi però già 8 smeraldi già sai allora ora passiamo qua prendiamo 4 stavo pure sbagliando direzione armatura di diamante e ci facciamo ci prendiamo anche la spada in diamante facciamo proprio il diamond eccolo arco quello potente tutte lecce allora questo qua rimaniamolo qua questo qua mettiamo il posto delle shears mi sembra un momento adatto provo a vogliare vediamo prima l'ultima di smeraldi però mi servono 4 2 qua e 2 qua non è perfetta no ecco qua sul blu è in dapple secchio d'acqua mettiamo il secchio d'acqua qua sono sotto a sedia sono sotto a sedia vai se lo prendo se lo prendo sono un mago vai sniper sniper non la notte è stato sicuro prendiamoci i materiali che ci servono questo qua non ci serve più adesso va bene ora ci dobbiamo comprare assolutamente il denippo questo e il resto lo scrivo in freccia altra del denippo attenzione 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 ok sono più forte io ho capito prender perlo nella tua base ah ma il tuo letto è stato già distrutto non se l'aspettavo non se l'aspettavo perché non vieni che hai paura chi fa pote non mangio come la d'oro chi fa pote 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 e vince 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 e vince red mister roar partita lunga però vittoriosa ok allora spalliciate condividete noi ci vediamo in un prossimo video ciao a turuturututti